Com'è stato per te il 2022? Sicuramente è stato un anno spaventoso sotto tantissimi aspetti. Se ci mettiamo a tirare le somme si può quasi dire che sia stato peggio del 2021 e del 2020. Ma per una volta concentriamoci sulle cose positive avvenute quest'anno, cose che riguardano ovviamente gli argomenti che trattiamo qui. Ebbene il 2022 è stato anche l'anno delle spiegazioni, della svolta e della soluzione di diversi casi freddi, che sarebbero casi irrisolti, sui quali la polizia aveva smesso di indagare. Oggi quindi ho scelto tre di queste storie. Storie misteriose che tutti credevano irrisolvibili e le cui vittime erano quasi state dimenticate. Riporteremo alla luce proprio le vittime per far sì che vengano ricordate e che siano di insegnamento per noi ancora in vita. E come in un giallo ci addentreremo in un vortice di enigmi, prove, depistaggi e domande senza risposta. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e fare attenzione agli indizi perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. O meglio sui file di oggi perché come vi ho detto prima saranno tre casi rimasti irrisolti per tanto tempo. E sono uno più misterioso e assurdo dell'altro. Ora che è iniziato il 2023 mi sembra giusto ricordare cosa ci siamo lasciati alle spalle. O meglio chi ci siamo lasciati alle spalle. Ma prima ragazzi vi ricordo che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video. Quindi andate a fare un giro sul sito e se vedete qualcosa che vi piace ricordate di inserire il codice Andrew per ricevere anche delle calze a scelta in omaggio. E me l'avete chiesto in tanti quindi vi faccio vedere pure uno dei miei gatti. Questa è Sheila. Che oggi starà qui. Sarà qui con noi e non è molto contenta a quanto pare. Non è affatto contenta. Amore. Niente non starà qui con noi comunque era sulle mie gambe tutto il tempo fino ad adesso ma ha deciso che basta non andava più bene. Ma adesso addentriamoci finalmente nelle storie di oggi. Per il primo file voglio parlarvi dell'investigazione sulla tragica storia di Liberty German e Abigail Williams. Le due sono conosciute principalmente come Libby e Abby. E se siete appassionati di true crime sono sicuro che le avete già sentite nominare. Queste due ragazzine sono migliori amiche e hanno rispettivamente 14 e 13 anni. Il 13 febbraio 2017 però accade qualcosa di davvero terrificante. Quel giorno Libby e Abby non hanno scuola e decidono di andare a fare un'escursione in una zona isolata e suggestiva. Una passeggiata tranquilla mentre chiacchierano degli argomenti preferiti degli adolescenti. Si dirigono lungo il Monon High Bridge Trail a Delphi nell'Indiana. Da qualche sono riuscito a capire si tratta di un percorso panoramico dove un tempo passavano i treni. Infatti ci sono tuttora i binari. È un luogo tranquillissimo circondato da alberi e aria pulita. E c'è anche un fiumiciatolo che passa lì sotto. Insomma è decisamente un bel posto in cui andare a fare una passeggiata. Libby e Abby si divertono e passeggiano in quel sentiero scattando foto e ridendo. Avrebbero pubblicato quelle foto su Snapchat. Che se non conoscete è praticamente un social in cui ci sono solo le storie. Il social da cui Instagram ha rubato l'idea proprio per le storie. In poche parole. Comunque Libby e Abby sarebbero dovute tornare a casa presto quel giorno. Ma purtroppo non tornarono mai più. Scomparvero nel nulla. I genitori si preoccupano da morire e si mettono subito a cercarle. Dopo un bel po' di tempo viene dato l'allarme in tutta la città. Si diffonde quindi il panico. La comunità di Delphi è composta da circa 3.000 abitanti per cui tutti si conoscono. E alle persone che vivono lì sembra davvero strano che due ragazzine si siano perse. Quando accadono cose del genere in cittadine così piccole c'è sempre un senso di incredulità, di sgomento. Non accade mai niente in luoghi del genere, proprio come dove vivo io. Quindi provate a immaginare come ci si può sentire. Le famiglie ovviamente sperano di trovarle al più presto. E sanno bene che più passa il tempo, più c'è il rischio di non trovarle mai. Alla fine però non passa molto tempo. Il giorno successivo infatti si trova finalmente qualcosa. Ma non è quello che le famiglie speravano. Sempre da quelle parti, in una zona boschiva, vengono ritrovati i corpi martoriati delle due ragazze. E non c'è alcun dubbio, sono loro. Da quel poco che ha detto la pulizia in merito, si capisce che hanno perso una grossa quantità di sangue. Ma chi può aver fatto una cosa del genere a quelle due ragazzine? Non avevano nessun nemico, erano letteralmente appena adolescenti. Com'è potuto accadere? Scoppia davvero il panico. Libby e Abby vengono ritrovate con svariate ferite. Anzi, ad essere più precisi, sono state massacrate senza pietà. Come vi dicevo prima, immaginate di essere in un luogo in cui non accade mai nulla e ad un tratto capita questo. Una cosa inimmaginabile e di una crudeltà fuori dal normale. A questo punto chiaramente la paura sale ancora di più. Perché chi cavolo può averle ridotte così? Perché poi? Vengono in fretta formulate le prime ipotesi. E la prima è quella che più di tutte viene presa in considerazione. Sarebbe stato un maniaco a ridurle così. Una persona che non c'entrava niente con loro. E ad avvalorare questa ipotesi è un video fatto da una delle ragazze. I loro effetti personali sono stati ritrovati sempre in quella zona e tra questi c'erano anche i loro cellulari. Come vi ho detto prima, le due ragazzine stavano facendo foto e riprendendo video per Snapchat. E per fortuna aggiungerei. Perché in una di quelle riprese si può vedere uno strano individuo dietro di loro. Un uomo misterioso che sembra dirigersi nella direzione delle vittime. Purtroppo la qualità non è il massimo. E il suo volto appare completamente irriconoscibile. Se guardiamo bene il video possiamo notare che l'uomo tiene lo sguardo basso e tiene il volto piuttosto coperto in generale. Un comportamento che di certo si addice ad una persona colpevole. Ma questo non prova nulla. Per quanto ne sappiamo a questo punto, quello potrebbe essere solo un passante. Qualcuno che non c'entra niente con l'omicidio. Ma dato che è appena accaduto un massimo sacro, viene quasi istintivo pensare al peggio. Anche perché sempre nel cellulare di una delle vittime è presente una registrazione in cui una voce maschile dice di andare giù per la collina. Come se stesse ordinando alle ragazzine di andare da qualche parte. Ma per ora i detective possono solo fare ipotesi. Per esempio, giusto per farne qualcuna, se si tratta dello stesso uomo, siamo sicuri che stava parlando proprio alle vittime. Non si sentono urla o cose simili. Quindi il colpevole stava forse parlando ad un complice. Oppure Libby e Abby lo conoscevano. Ed è per questo che non hanno posto resistenza. Insomma, è un vero casino. Perché in un certo senso è come se si avesse la prova del colpevole, ma allo stesso tempo no. E sono sorte davvero centinaia di domande nella testa delle persone. Sapevano solo che un uomo sconosciuto era stato lì con loro, ma non sapevano chi fosse, né che volto avesse, né perché si trovasse lì. La polizia fornisce quindi la descrizione di quest'uomo e lo dipinge come un maschio bianco caucasico, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, alto circa 1,70 m e di circa 85 kg. Sono stati diffusi due identikit, uno nel 2017 e uno nel 2019. Tutto ciò però non porta a granché e il caso rimane letteralmente bloccato. Non ci sono molti indizi, né troppe piste. Si pensa che la persona responsabile, o le persone a questo punto, conoscono la zona di Delphi e in particolare quel percorso panoramico, ma per gli abitanti questo sarebbe uno scandalo perché significherebbe etichettare uno di loro come il colpevole. In città, come ho detto prima, si conoscono tutti e non era mai successo niente di simile prima di allora. Insistono quindi sul fatto che l'assassino debba provenire da fuori. Magari si tratta di un mostro solitario che per caso si è trovato lì e ha preso di mira due innocenti ragazzine. Nessuno però riesce a pensare che nella comunità si nasconda un assassino e la cosa che li spaventa di più è che potrebbe colpire ancora. Le autorità comunque fanno il possibile e in effetti hanno qualche sospetto. Uno di questi, per esempio, è quello ritenuto come il più probabile. Si tratta di un uomo di 27 anni dell'indiana che utilizzava diversi account online per adescare minorenni. È stato beccato nel 2017 e la sua casa ha perquisita. Dentro quell'appartamento è stato trovato di tutto e non scenderò nei dettagli perché parliamo di materiale che concerne minorenni. Questo pervertito è stato scoperto con il suo nickname di Anthony Schott's. Il suo vero nome è Keegan Anthony Klein e usava proprio Snapchat per adescare minorenni e farsi inviare materiale intimo. Oltre a questo, pare che Keegan abbia invogliato le sue vittime ad incontrarlo. Tutto ciò lo rende apparentemente legato al caso di Libby e Abby perché forse le ragazzine sono state abbindolate da questo maniaco. Forse è invogliata di incontrarsi proprio lì, in quel punto sperduto. Ma i genitori delle due non pensano che sia andata così. Dicono che non erano a conoscenza di nessun loro incontro quel giorno. Ma questo vuol dire ben poco. Gli adolescenti non dicono tutto ai genitori, specialmente le cose che riguardano internet. Per cui se questa ipotesi è vera, se davvero Keegan ha contattato Libby e Abby, forse loro si sarebbero diretti lì senza dire a nessuno il vero motivo. Ma al di là di questo, Keegan confessa di aver praticato adescamenti online. Dice agli investigatori che avrebbe usato gli account dei social per parlare con ragazze minorenni. E confessa di aver ricevuto circa 100 foto e 20 video specialmente espliciti. Inviati da 15 persone che non avevano ancora 18 anni. Tuttavia ha negato qualsiasi conoscenza o coinvolgimento nella morte di Libby e Abby. E in effetti di prove tangibili non ce ne sono. Lui è di sicuro un maniaco, ma non c'è niente che lo collega al nostro caso. Non ci sono chat con Libby e Abby. Tutto quello che abbiamo sono solo prove circostanziali, apparenti collegamenti, sospette coincidenze o vaghe considerazioni. Comunque Keegan Anthony Klein è stato accusato per i suoi crimini, ma mai per l'omicidio delle due ragazzine. Siamo quindi di nuovo punto e a capo. Ma Keegan non è stato l'unico sospettato del caso. Viene fuori un altro nome ed è quello di Ronald Logan. Ronald possiede il terreno su cui sono stati trovati i corpi di Libby e Abby e la sua casa è praticamente lì, molto vicino. Pare che quest'uomo abbia collezionato diverse denunce per molestie sulle donne e possesso illegale di armi. Ronald avrebbe anche mentito su dove si trovava nel momento in cui le giovani vittime sono scomparse. Quel pomeriggio sosteneva di essere fuori città, con un suo amico. Ma i dati sulla posizione del suo cellulare lo smascherano subito. Seppur sospetto però non è mai stato veramente accusato ed è morto nel 2020, prima che il caso fosse risolto. Dopo tante domande e continue indagini arriva una bomba. Una notizia di un nuovo arresto. È il 26 ottobre 2022 ed è stato arrestato un certo Richard Allen. Arrestato perché è accusato dell'omicidio di Liberty German e Abigail Williams. Online tutti impazziscono per questa notizia perché finalmente è stato dato un volto e un nome da associare a questo caso. Ci sono decine e decine di pagine sul web dove viene mostrato a tutti il volto di questa persona. Ma chi è? E come è stato collegato alla morte di Libby e Abby? Sposato con sua moglie Katie con cui ha una figlia adulta, il signor Allen è un tecnico farmaceutico qualificato. Ha ricevuto la sua licenza farmaceutica nel febbraio 2018, un anno dopo i delitti. Di recente ha lavorato presso il negozio CVS, una farmacia locale ed è quindi entrato in contatto con i membri della comunità. Questa è la drammatica conferma per tutti gli scettici che all'inizio credevano che il colpevole non fosse di Delphi. Però dai, era chiaro come il sole che l'assassino sapesse come muoversi. Cioè, è sfuggito alla giustizia per ben 5 anni. Ma alla fine il signor Allen è stato confermato come responsabile. In una foto piuttosto inquietante pubblicata da sua moglie su Facebook, Allen sorride. Sul muro dietro di lui, però, c'è lo schizzo della polizia del 2019, lo schizzo del presunto colpevole del delitto. Pare che questa foto l'abbia scattata apposta per prendersi gioco delle autorità che ancora non avevano capito chi fosse il colpevole. Perché è impossibile che Allen non sapesse del massacro delle due ragazzine. In città è da anni che si parla di questo delitto. inoltre il registro della prigione della contea di Carroll aveva già registrato il signor Allen con lo pseudonimo di Craig Ross Randfrow. Quindi aveva già dei precedenti e conosceva la zona e molto probabilmente si è fatto beffe della tragedia e della caccia al colpevole. E so che siete curiosissimi ma la polizia ancora non ci ha rivelato una cosa importantissima. È sicura che Allen sia il colpevole ma nessuno sa perché. Le autorità hanno temporaneamente sigillato i documenti che contengono le prove che lo legano agli omicidi di Abby e Libby. In una dichiarazione pubblica la polizia ha rivelato che le indagini sono ancora in corso e ritiene che la condivisione di ulteriori dettagli potrebbe danneggiare proprio le indagini. Quindi per ora tutte le informazioni su come e perché Richard è stato arrestato sono top secret. Il sovrintendente della polizia di stato dell'Indiana un uomo di nome Doug Carter ha dichiarato Anche se so che tutti vi aspettavate i dettagli finali non è questo il giorno. L'indagine è tutt'altro che conclusa e non metteremo a repentaglio la sua integrità rilasciando o discutendo documenti o informazioni prima del momento opportuno. È stato però confermato che un'udienza preliminare è stata fissata per il 13 gennaio 2023. Nel frattempo la data del processo vero e proprio è stata fissata per il 20 marzo. Abbiamo quindi ancora un bel po' di tempo da aspettare prima di poter cantare vittoria per davvero. Anche perché seppur confermato come responsabile pare non essere l'unico. Quindi almeno per ora sappiamo solo questo. È un caso in parte risolto in parte ancora no. Solo il tempo ci darà le risposte che non solo noi aspettiamo. La seconda storia di cui voglio parlarvi oggi è davvero molto particolare. Siamo nel 1988 in Georgia. Nella contea di Deid vengono trovati i resti di una donna. Viene subito ipotizzato che la vittima fosse un autostoppista visti anche gli anni e il luogo del ritrovamento. Dopo un'attenta analisi si scopre che questa donna misteriosa è stata aggredita sessualmente e in più stracolata. Nello specifico questi sono tutti i dettagli rilasciati. Indossa un pullover a maniche lunghe in maglia termica, un reggiseno blu-nevi, jeans blu firmati Calvin Klein, scarpe nere stringate, alte fino alla caviglia, collana in oro giallo, anello al mignolo in oro bianco con un cuore in cima, a capelli ramati o rossi, ondulati e lunghi fino alle spalle. I suoi denti sono storti e uno di questi sembra proprio rotto. Alla fine degli anni 80, come sapete, non si avevano i mezzi di adesso ed era quindi difficile stabilire chi fosse questa persona. Viene classificata come Jane Doe, ovvero il nome fittizio con cui vengono chiamate le donne non identificate. Viene dato questo nome in attesa di trovare quello vero, ovviamente, e si indaga come si può. Perché bisogna stabilire non solo chi è, ma anche chi la ridotta così. Ovviamente, subito, spuntano i primi nomi sospetti. Il serial killer Samuel Littal, per esempio, ha di recente confessato il delitto di Patricia Parker, una donna anche lei uccisa brutalmente nella contea di Dade. Si pensa quindi che le due cose siano collegate, ma senza prove rimane solo un sospetto. Dopo un po' però, questa ipotesi viene scartata attraverso le prove del DNA, ma viene fuori un altro nome, quello di un altro serial killer, un certo Larry DeWayne Hall. Madonna, quanti serial killer ci sono in America. Comunque si pensa che questo Larry sia responsabile della scomparsa di un massimo di 45 donne, il tutto tra gli anni 80 e 90. Molte delle presunte vittime di Larry erano giovani donne, tutte mutilate e aggredite o trovate vicino ai memoriali della guerra civile. Attualmente incarcerato in una prigione federale della Carolina del Nord, si trova in reclusione per il rapimento e il delitto di Jessica Roach, un omicidio avvenuto nel 93. Ma anche nel suo caso ci sono solo prove circostanziali. Nulla di certo che lo collegherebbe alla nostra Jane Doe. Il caso è rimasto quindi immobile per tantissimo tempo. È stato praticamente dimenticato per decenni, il che è sempre un peccato. Trovo di una tristezza infinita i casi in cui non si arriva ad una conclusione, specialmente se non viene neanche identificata la vittima. Ma per fortuna questo caso rimane tale solo fino a settembre 2022. Finalmente arriva una svolta decisiva. Anni fa il corpo è stato riesumato e sottoposto a numerosi test. E adesso quello che sappiamo è non solo il suo nome ma anche il nome del colpevole. Il suo assassino è stato identificato come Henry Frederick Wise, noto anche come Hoss Wise. Aveva 34 anni al momento dell'omicidio e aveva un passato criminale in Florida, Georgia e North Carolina. Il suo DNA è stato schedato e così si è potuto arrivare a lui e collegarlo alla nostra Jane Doe. Però lui ha lasciato questo mondo a 44 anni morendo in un incendio in un'auto nella Carolina del Sud. Per quanto riguarda Jane Doe, la vittima, è stata ufficialmente riconosciuta come Stacy Lynn Chiarosky, nata nel 1969. Stacy è stata dichiarata ufficialmente scomparsa nel gennaio 1989, quattro mesi dopo aver contattato sua madre per l'ultima volta. Al tempo Stacy aveva chiamato sua madre al telefono e le aveva detto che stava progettando di fare l'autostop dalla Carolina del Nord per recarsi al suo stato natale, il Michigan. Ancora più nello specifico doveva recarsi nelle città di Flint e Muskegon. Si è però ritrovata davanti l'uomo sbagliato e ha fatto una pessima fine. La sua storia seppur breve la trovo sinceramente terribile perché evidentemente Stacy non aveva fatto niente di male, non meritava affatto una fine così terribile. Quello che meritava era di riuscire ad arrivare in Michigan. Ma a quel tempo non era così strano fare l'autostop, anzi andava proprio di moda. Adesso è impensabile proprio per via dei tanti omicidi avvenuti in questo modo e Stacy è una di quelle persone che perdendo la vita ha contribuito a renderci più consapevoli. È proprio vero che dobbiamo stare attenti a chi incontriamo per strada, autostop a parte. Così come è successo a lei che si è fidata di un estraneo potrebbe succedere a chiunque. Sicuramente è una vicenda che fa riflettere. La terza triste vicenda è quella di Brittany Drexel. Brittany è una ragazza statunitense che a 17 anni scomparve improvvisamente nel nulla nel giro di soli 10 minuti. Si trovava a Myrtle Beach nella Carolina del Sud ed erano le vacanze di primavera del 2009. Ma partiamo con ordine. Tutto comincia dalla città di Rochester nello stato di New York. Lì vive la famiglia Drexel. Brittany la sfortunata protagonista nasce il 7 ottobre 1991 da sua madre Dawn e da suo padre John. Erano adolescenti quando è nata la loro Brittany e hanno fatto di tutto per garantirle una vita serena ed equilibrata. Le hanno dato tutto l'amore possibile ma l'amore tra Dawn e John purtroppo non durerà per sempre e infatti finisce con un divorzio. John sparisce completamente dalla vita di Brittany ma la bambina trova una nuova figura paterna. La trova nel nuovo compagno di sua madre un uomo di nome Chad Drexel un soldato dell'esercito. Lui ha addirittura adottato Brittany dandole così il suo cognome e si forma così una nuova famiglia ma le cose non vanno bene come si potrebbe pensare. Brittany purtroppo soffre di un grave problema ad un occhio e nonostante i numerosi interventi rimane praticamente cieca da quel lato. Cerca di andare avanti col sorriso e prende provvedimenti per questa sua condizione. Diventa quindi una ragazza estroversa e sportiva vorrebbe fare la modella per promuovere la sua idea di bellezza ovvero quella che vede chiunque come bello a discapito delle proprie imperfezioni o anche disabilità. Questa sua dolcezza la rende amata e piacente è circondata da amici che le vogliono un mondo di bene e anche un fidanzato ma purtroppo per lei i problemi sono sempre dietro l'angolo. La vita di Brittany sembra essere una montagna russa fatta di altissimi e bassissimi. Ha affrontato il divorzio di sua madre la sua condizione fisica e ora un nuovo divorzio. Sua madre si separa dal nuovo compagno nel 2008 e questa situazione rende Brittany davvero triste di conseguenza forse cercando un'ancora di salvezza riallaccia i rapporti con John il padre biologico e cerca quindi di recuperare gli anni persi del loro rapporto padre figlia. I due fanno spesso shopping insieme a Rochester e seppur lentamente Brittany riacquista una certa stabilità. Il tempo passa e nella primavera del 2009 Brittany decide di voler andare col suo ragazzo nella Carolina del Sud. L'obiettivo è semplicemente quello di festeggiare lo Spring Break che non so se qui esiste vabbè comunque tipo vacanze di primavera ovviamente con la presenza di amici alcol e le tipiche cose dei parti americani. Sua madre però non vuole allora la giovane le propone un compromesso e le chiede invece di andare da un'amica a passare del tempo lungo le coste del lago Ontario. La madre accetta e così il 22 aprile 2009 saluta sua figlia prima che partisse per questa vacanza. Sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbe vista. Brittany in realtà non sta andando sulle coste di quel lago. La classica teenager un po' sprovveduta è salita nella macchina di un suo amico in direzione Myrtle Beach a più di 1200 chilometri da casa. Per farvi capire è come se invece di andare da Milano a Genova Brittany avesse fatto Milano Messina è molto più lontano rispetto a dove sarebbe dovuto andare secondo sua madre. Comunque arrivano lì sani e salvi e Brittany e il suo amico si incontrano con altri ragazzi. Prendono il sole giocano a pallavolo e festeggiano in discoteca. Brittany non si era mai divertita così tanto. Era proprio felice ma presto il clima giovale e tranquillo svanisce. Molti ragazzi del gruppo dopo qualche bicchiere di troppo diventano un po' molesti e la sera del 25 Brittany lascia la discoteca e ritorna in hotel. Viene anche ripresa dalle telecamere di sorveglianza di questo hotel. La giovane poi messaggia un po' con gli amici e un po' con il suo ragazzo. In effetti proprio con lui aveva messaggiato tutto il giorno e grazie alle loro conversazioni sappiamo che quella vacanza a Brittany stava iniziando a non piacere. L'adolescente esce dall'hotel verso le 20.45 e da lì in poi il nulla. Il suo ragazzo non riceve risposta e inizia a preoccuparsi. Prova a chiamarla ma lei non risponde e in qualche modo sua madre viene a sapere della bugia e scopre quanto sua figlia fosse lontana da casa. Ma non è questo il problema a sto punto. Brittany è sparita e nessuno ha idea di dove sia. Già il giorno dopo la notizia inizia a diffondersi. Vengono distribuiti tantissimi volantini in tutta Myrtle Beach e la polizia inizia ad indagare sulla sparizione. Tutta la famiglia della ragazza si reca fin lì e comincia subito a chiedere informazioni in giro. Qualsiasi cosa anche minima sarebbe potuta essere utile alle ricerche. Si tratta di un momento tesissimo. Una situazione in cui ogni minuto che passa la speranza di rivedere Brittany si affievolisce. Alcune persone del posto dicono alla famiglia di averla vista ad una fermata del bus altri invece dentro un minimarket ma non c'è modo di confermare queste testimonianze. La polizia cerca letteralmente ovunque. In ogni negozio locale addirittura nei cassonetti dell'immondizia. Cercano poi in ogni parco ogni strada ogni via e ogni angolo. Sembra incredibile ma della giovane non c'è davvero nessuna traccia. Oddio una cosa tra virgolette c'è ed è il segnale del suo cellulare. Non è chiaro se lo abbiano trovato materialmente ma una fonte riporta che il telefono ha emesso del segnale in posti molto più a sud di Myrtle Beach poi si è spento per sempre in un posto chiamato Georgetown. Anche questa volta non è chiaro se lei si sia recata proprio lì o fosse solo il suo cellulare ad esserci arrivato magari gliel'avevano rubato o chissà cos'altro poteva essere successo. Fatto sta che le indagini proseguono e si concentrano proprio a Georgetown banalmente perché sono lì le ultime presunte tracce di Brittany. Un notiziario locale racconta che i detective hanno controllato l'elenco dei molestatori della zona e fa riferimento ad uno di questi in particolare ma subito dopo viene scartato dalle indagini il perché ci è sconosciuto e così pare non esserci nessuna pista da seguire. Per anni e anni il caso rimane avvolto nel mistero più totale. Nessuno sa niente o meglio chissà non vuole parlare. Ogni tentativo di ricerca di Brittany viva o morta a questo punto non ha prodotto risultati. La famiglia è devastata e le ha provate tutte. Volantini cartelloni apparizioni nei media campagne di sensibilizzazione ma di Brittany non c'è alcuna traccia. Soltanto nel 2016 dopo sette anni si assiste alla prima svolta del caso entra in gioco l'FBI ed escono fuori due nomi Timothy Dashaun Taylor e Taquan Brown due detenuti. Pare che queste due persone abbiano qualcosa da dire per cui vengono interrogate. Uno dei due Taquan rivela alla gente dell'FBI di aver visto Brittany a casa di Timothy ovvero l'altro suo amico detenuto. Stando a questa testimonianza la giovane sarebbe stata maltrattata e addirittura uccisa da Timothy e il suo corpo dato in pasto agli alligatori della zona. E ci sono addirittura altri criminali che confermano la sua colpevolezza per cui il primo sospetto Timothy viene sottoposto ad un interrogatorio stremante. Nel giugno del 2017 come parte delle trattative per il patteggiamento Timothy fa un test della macchina della verità e le risposte al poligrafo sono state etichettate come ingannevoli. Più avanti avrebbero proprio detto che lui ormai il sospettato numero uno non fosse stato affatto sincero. Non penso proprio che sia stato per la morte di Brittany ma alla fine Timothy è stato condannato a 319 giorni di carcere. Era già in carcere per altri motivi ed è stato spesso interrogato sui suoi crimini precedenti. Sembra quindi che lui con Brittany non abbia molto a che fare. Anche perché dopo la sua condanna il caso è rimasto aperto e si è continuato a cercare un colpevole. Ma ad un certo punto l'altro detenuto sospetto ovvero Taquan Brown quello che ha accusato Timothy ritorna in questa storia. Se per Timothy ormai si è messa una pietra sopra su Taquan c'è ancora qualcosa da dire. Nel febbraio 2019 l'uomo ha rilasciato un'intervista telefonica alla stazione televisiva di Rochester. L'ha fatta direttamente dal carcere in cui era detenuto e ha detto di aver visto Brittany Drexel quattro volte dopo la sua scomparsa. Oltre al primo incontro ha detto di averla rivista un mese dopo e dice che è in quel momento che è stata uccisa. Racconta che la ragazza è stata aggredita e molestata da un gruppo di 8-12 ragazzi. Si trovavano all'interno di una sorta di nascondiglio a McLellanville. Era il 27 aprile due giorni dopo la sua scomparsa. All'epoca non la riconobbe ma si rese conto di che fosse solo un mese dopo quando si diffuse la pubblicità sul caso. Il secondo incontro con lei dice avvenne pochi giorni dopo e fu lo stesso evento che aveva descritto all'FBI la volta in cui Timothy ha fatto da protagonista uccidendo la povera Brittany. Specifica anche altre cose e praticamente rende pubblico tutto quello che aveva detto all'agente dell'FBI tempo addietro. Ecco grazie a tutte queste informazioni si smaschera finalmente una banda composta da questi ragazzi ma per quanto riguarda il caso di Brittany non c'è ancora alcuna risposta. Insomma è venuta fuori un sacco di roba tra tresche criminali sotterfugi e cose simili ma comunque ancora nessuna svolta. Ma non scoraggiamoci. Solo di recente nel 2022 e aggiungerei alleluia si è riusciti a trovare una quadra in questa situazione assurda. Nel maggio appena passato un certo Raymond Moody di 62 anni si è consegnato all'ufficio dello sceriffo della contea di Georgetown. La polizia aveva inizialmente considerato Raymond una persona interessata alla scomparsa e infatti aveva ragione sin da subito. Raymond ha confessato il crimine il 4 maggio e ha fornito una posizione dei resti della ragazza. L'FBI quindi nei tre giorni successivi si è recata lì e si è messa a cercare. L'11 maggio poco fuori dalla città di Georgetown sepolti nei boschi sono stati individuati dei resti umani. DNA e autopsia confermano tutto si tratta proprio di Brittany. Era stata strangolata e poi sepolta la mattina del 26 aprile 2009. L'ufficio dello sceriffo della contea di Georgetown insieme alla famiglia della vittima ha reso pubbliche le informazioni il giorno successivo il 16 maggio insieme ovviamente all'annuncio dell'arresto di Raymond Moody. Il 19 ottobre in aula si è dichiarato colpevoli di tutte le accuse ed è stato successivamente condannato all'ergastolo più 30 anni di reclusione. In un certo senso finalmente la storia si è conclusa anche se essendo recente come notizia alcuni dettagli sfuggono. Rimaniamo quindi in attesa di altri aggiornamenti. La burocrazia è lenta lo sappiamo tutti e non solo qui in Italia. Staremo quindi a vedere come si evolveranno le cose. Magari vi aggiornerò con un commento qui sotto ma per il momento questo è tutto. Ciò che trovo assurdo comunque sono anche le testimonianze dei due ragazzi. Cioè sembra si siano inventati tutto almeno riguardo Brittany. E per cosa? Questa è proprio una cosa che non sono riuscito a capire e anche questo caso mi ha lasciato con l'amaro in bocca. Per più di un decennio la famiglia della vittima non ha saputo niente e la trovo una cosa estremamente ingiusta. Mi auguro davvero che le vittime di queste storie riposino in pace. Ma prima di salutarci voglio dare una sorta di premio tra tantissime virgolette a chi ha guardato il video fino a qui. Innanzitutto grazie vi amo perché non so come fate ad ascoltarmi per così tanto tempo ma lo apprezzo tantissimo e detto questo voglio sostanzialmente spoilerarvi qualche contenuto che sto preparando. Il prossimo venerdì scaveremo insieme in un'ossessione pericolosissima. Vi racconterò la storia di un ragazzo che ha letteralmente perso la ragione. Un ragazzo ossessionato dalle cam girls e so che sapete cosa sono. Oltre a questo come vi avevo anticipato qualche settimana fa ho intenzione di realizzare un video su Lutman l'uomo col cappello. Nei prossimi mesi raccoglierò testimonianze informazioni e tutto quello che riesco e vi racconterò come si deve anche questa vicenda che è più paranormale. E in quel video ci saranno anche le persone che hanno vissuto e visto qualcosa. Non vedo l'ora di raccontarvi tutto quanto. Quindi se siete curiosi come me e non vedete l'ora di conoscere anche queste storie ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. Io comunque come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti quale caso avete trovato più interessante e ne discutiamo un po' insieme. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.